Ci troveremo al centro di quelle che sono il sogno di quasi tutte le donne, quelle che vogliono fare un matrimonio bello, importante ed elegante. Atelier Lucia Ricciardi. Uno ci mette alla faccia il nome, no? Certo, senz'altro, è logico. Noi siamo un atelier storico a Santa Teresa di Riva. Siamo proprio al centro nel cuore della cittadina, in via Regina Margherita 77, proprio di fronte a Piazza Municipio. Ci rivolgiamo ad una clientela specifica, perché è una clientela attenta al gusto, alla ricercatezza, alla ricerca di stile, che sono poi tutte le caratteristiche delle collezioni che noi appunto rappresentiamo in negozio. Voi sapete che avete una grande responsabilità, quella di realizzare un sogno, perché per la donna, come per l'uomo, ma forse per la donna un po' di più, avete questa responsabilità di realizzare il sogno e che quel giorno diventi il resto importante per tutta la vita. Certo, infatti. E infatti i nostri stilisti diciamo che sono un po' quegli stilisti che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e nel mondo. E quindi una garanzia inequivocabile di stile, di raffinatezza, di preziosità, di ricami, di tessuti, tutto ciò insomma che fa il buon tonno italiano. E ricordiamo che tutto quello che fate, tutto prodotto, appunto come dicevamo, tutto prodotto italiano è fatto da... Sì, per la quasi totalità, sì. E quindi è importante scegliere il prodotto italiano anche perché, ripeto... E questo è da sottolinearlo, la necessità di scegliere il prodotto italiano. Quindi voi vi rivolgete solo alla sposa o avete anche la cerimonia? Sì, la cerimonia sì, ma non teniamo lo sposo, non curiamo lo sposo. I poveri sposi, niente. No, lo sposo proprio non lo teniamo in considerazione. E non deve entrare neanche in Italia? E non deve entrare neppure in ADR, è chiaro, perché altrimenti per scaramanzia il matrimonio va male. Perfetto, allora ricordiamo dove si trova. In via Regina Margherita 77, Santa Teresa, di Riva, di fronte Piazza Municipio. Grazie, allora buona fiera anche a voi. Grazie, arrivederci, buona serata.